Oggi la vittoria con la Pistoiese però ha un valore particolare, perché è arrivata con la squadra che aveva inflitto al Teramo l'ultima sconfitta. A prescindere questo, oggi con la Pistoiese credo che abbiamo giocato un bel calcio. Abbiamo avuto 7-8 palle gol, abbiamo dimostrato che la vittoria è meritata e rispetto al giorno di andata credo che abbiamo 7 punti in più e questo è molto positivo. Un successo sul velluto, non avete mai corso rischi e Tonti mai impegnato. Insomma è arrivata l'ennesima risposta che ci si aspettava. È una squadra che ogni domenica che passa acquisisce personalità, un bravo va all'allenatore, è un bravo va al gruppo che ci crede, ci saremo fino alla fine e poi si vedrà. Noi ce la giocheremo adesso mercoledì, andremo lì, sarà una partita molto, molto, credo, dura. Però oggi il Teramo è lì, quindi abbiamo tanti punti, ci crediamo, noi ci crediamo, come ci crede la squadra, la società c'è e aspettiamo mercoledì. Mi sembra che ci siano delle differenze abbastanza evidenti per quello che sono i punti in classifica. Noi non abbiamo nell'indole di questa squadra a venire qua a fare costruzionismo, a fare catenaccio, e questo probabilmente con una squadra importante, con giocatori davanti che anche oggi hanno dimostrato di essere già pronti per la categoria superiore, qualcosa ti penalizza. Però i risultati che la Pistoiese ha fatto finora li ha fatti sempre attraverso la ricerca del gioco.